Un cordiale buon pomeriggio dalla redazione di Muoversi in Toscana Info e nel studio Andrea Biagioni. In A11 è venuto meno il blocco del traffico causato da un incidente occorso tra Monte Catini e Pistoia in direzione Firenze. Per il momento si registrano solamente code di un chilometro. Sempre in A11 fare attenzione ad un veicolo fermo in avaria tra Chiesina Uzzanese e Monte Catini in direzione Firenze. Veicolo fermo in avaria anche in A1 tra Valdarno ed Arezzo in direzione Roma. Per quanto riguarda il traffico aereo il volo Pisa-Palma de Mallorca con partenza prevista alle 18.05 e decollerà alle 18.50. Chiudiamo con i treni il regionale 3166 diretto da Foligno a Firenze-Santa Maria Novella. Viaggia con 31 minuti di ritardo e arriva a Firenze alle 18.28. Muoversi in Toscana Info realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!